Venite, partecipate, aderite alla giornata della musica, della cultura per la Palestina, per il popolo palestinese organizzato dalla comunità palestinese della Campania. Si sta facendo un grande lavoro in città, 25 febbraio ore 19, Palapartenope, Napoli, per sostenere il popolo palestinese a Gaza, per urlare sì al cessato il fuoco, stop genocidio nei confronti del popolo palestinese. Non ci sarà pace e giustizia senza la fine dell'occupazione israeliana in Palestina. Vi aspettiamo in tante e tanti.